in questo momento possiamo scegliere se soffermarci su ciò che non possiamo fare o concentrarci su quello che possiamo fare è già partito già ciao a tutti questa è la nike airzunvole 15 e tra il mondo delle scarpe protettive questa è la più reattiva aspetta che mi devo come sono qui i capelli che ci hanno chiuso i parrucchieri ciao a tutti sono michele oggi vi presento la nuova scarpa di mizuno la wave ultima 12 sicuramente la scarpa con maggior comfort e comodità che ho in negozi ciao ragazzi questa è la ma la posizione ciao ragazzi sono franco questa è la gel nimbus 23 top di gamma di asics ciao sono clara questa è la ghost 13 ed è la più versatile di brux saluniere ciao sono alessandro di sport allonato ti presento pegasus 37 la scarpa più iconica di nike adela la 880 da donna l'argomento è il lunedì di ognuno di noi una metafora ciao a tutti sono simone di sport lansate eufemia e oggi sono qui per presentarvi la new balance 880 versione 10 in questa versione è la più rinnovata in casa new balance o hai una motivazione o hai una scusa ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.